sono altre. Contro la riforma sparano ad alzo zero i 5 stelle. Il governo vuole imbavagliare le inchieste, attaccano, mentre sul blog Grillo invita a pubblicare tutte le intercettazioni. Ma vi pare che nel bel mezzo di uno scandalo che coinvolge il governo e di cui noi siamo venuti a conoscenza, grazie alle intercettazioni telefoniche, il governo Renzi vuole fare una legge per limitare la pubblicazione delle intercettazioni. Ma cosa ha da nascondere Renzi? Dibattito teso nel quale anche l'Associazione Nazionale Magistrati dice la sua. Sulle intercettazioni non servono giri di vite, avverte Piercamillo Davigo, neopresidente del sindacato delle toghe. La pubblicazione di intercettazioni non pertinenti, spiega Davigo, è già vietata dalla legge penale, quantomeno dal reato di diffamazione. Se vogliono si possono alzare le pene a chi diffava.